direi che dormo va bene ma come puoi dormire di fronte a questo spettacolo poi ci sono io che tra poco vado in rage non riesco a fare i parri poi mi sta addosso non riesco neanche a curarmi come si deve l'ultimo forse ce l'abbiamo quasi fatta a levargli un punto di vita dai ti manca pochissimo vai bella la relazione no come ha fatto a prendermi no dai 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 curati ah questo era un affondo non glielo potevo parare ho sbagliato però se vai di lato glieli puoi schivare un po' no no dai no dai nooo ah c'ho ancora la resurrezione fammi curare però ti prego madonna non ci voglio crepare mi ricorda tanto falla big ce l'abbiamo fatta si mamma mia no ma che cosa ma come sei vivo era vivo ci aveva fregato quasi grande mamma mia ragazzi no ma perché non muore ma che qual è il problema che problema c'è a sto gioco perché non moriva cioè dovevo premere più volte r mi stavo facendo fregare caspita ciao scette r sì dovevo premere r1 ciao jolly blue ho notato allora canna meccanica ah posso potenziare ancora il braccio ok perfetto sembra creata per adattarsi perfettamente va bene renderà ancora più affilate le zanne dello shinobi quindi diventa un po' più forte l'arma porta la canna meccanica dallo scultore perfetto grazie a tutti grazie a tutti